si vede che tanto che non riprendo sto continuando a staccare sto video squadra leggermente lunga bravo Gianlu così si però c'è Gianfra bravo ancora si Gianfra uomo Gianfra bravo Gianfra Odo dov'è? Giosuè dov'è? Giosuè l'ha detto suo padre a prenderlo sono due parti via quindi domani siamo questi meno Giosuè ah ma perché gli altri neanche domani sono disponibili non li vuole l'ho capito vedi chi è disponibile per di che il fratello può venire in 2001 si quanti ne possono giocare in 2001? qua grande bella stè c'è la c'è la c'è la c'è la va bene va bene dai vabbè dai 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 bravo 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 Manu non ce la fa più è morto è morto è morto crampia tutto tieni alu bravo hai visto prima che sei andato dentro il campo l'hai trovato l'appoggio non riesco a sto parlo va bene vabbè vabbè non ti arrabbiare vai tranquillo pazienza pazienza ma poi campi in erba noi proprio zero eh ed è stile oggi è ancora un po' che non c'hanno oggi è un tappeto è un tappeto vabbè non ti corre la palla come non ti corre la palla come Monaco Monaco giocalo Monaco sembrava che non c'è cambio va bene dai 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 bravo Andrea bravo Porti dai 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 Gianfra oi torniamo dai vuoi la sigaretta Gianfra che posso attarrarla parla chiamalo subito eh aspetta appena finisco di riprendere lo chiamo 7 minuti e un quarto mancano 3 minuti in teoria no di più no ma di più no iniziata bravo salva se riusciva la palla era meglio fidu 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 preoccupare il cartellino se ha chiamato bravo Ivan bravi raga uomo Gianlu bravo bravo lascia lì dai andiamo mettiamoci per Gianlu bravo Gianlu metti alu si è giro di qua Mona saluta 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 bella la vita diglio diglio bella la vita torna pure a dicembre che tante torna pure a dicembre che va bene 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 adesso è il cancellino andate pure ordinati bravo bravo salva staccati 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 vince a chi vince a chi vince a tu mamma che è successo ehm ehm che cazzo vuoi ehm hanno rubato la palla e fallo sto ehm sta prendendo le misure sempre dai cinque domani vengo in maglietta proprio quella lì se tira sì perché non tira di tirare non corre più nessuno porca basta manca dei loro se guardi mai non ce la fa più nessuno si potevano far 30 e per tempo ma tranquillamente 30 per tempo bravo vince no capito almeno io ok